Forse non è solo colpa mia. Un altro suicidio per mancanza di lavoro, per disperazione, per non sapere come mantenere la moglie e i tre figli, è una di quelle notizie che non si dovrebbe arrivare a dare. Forse non è solo colpa mia. Ha scritto questo artigiano di 52 anni in quella cittadina meravigliosa che è Bosa nella costa occidentale dell'isola. Questo ha scritto nel biglietto prima di togliersi la vita. Un biglietto lasciato alla sua famiglia. Un biglietto in cui ha salutato e chiesto scusa per non avere più la forza di andare avanti. Aveva chiesto lavoro. Aveva chiesto che gli affidassero delle commesse. Ma niente, i cantieri sono fermi, il lavoro non c'è e da lì la decisione di compiere un atto estremo come quello di togliersi la vita. Forse non è solo colpa mia, ha scritto. Non è solo colpa sua, certo, come non è solo colpa, ma magari anche, di istituzioni forse troppo lontane, colpa di un'economia in crisi nera senza speragli di speranza, colpa di troppe porte chiuse, colpa del silenzio di tutti, forse, anche nostro. Maio!